Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Qui si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei leggere, libri che vorrei comprare, insomma di letteratura a 360 gradi. Inoltre questo canale è anche collegato col mio blog di Tumblr, L'Arte dello scrivere forse, trovate il link nell'info box, mi raccomando visitatelo perché ce l'ho da più di 15 anni, quindi contiene veramente tantissime recensioni di libri, mi raccomando. Magari potreste scoprire la vostra prossima lettura. Oggi un video dedicato al vintage, i libri vintage. Perché ne voglio parlare? Perché in questi giorni sto aiutando una mia cugina di secondo grado a svuotare casa e sono saltati fuori tantissimi romanzi rosa degli anni 60 e 70, che lei collezionava, quindi stiamo parlando di più di 80 volumi di Barbara Cartland. Più di 40 volumi di Yala e molti molti altri. Allora, oggi non parleremo né di Barbara Cartland né di Yala, perché credo che siano autrici conosciute da tutti. Se così non è e vi interessano dei video dedicati a Yala o a Barbara Cartland, fatemelo sapere con un commento a questo post o a questo video e ci lavorerò sopra. Oggi mi dedicherò invece ad autori che io stessa ho scoperto catalogando tutti i libri di mia cugina e che io stessa non conoscevo, anche se pensavo di sapere quasi tutto sui romanzi rosa. Non era così. Allora, vediamo un pochino. Partirei con i romanzi di Delly. Allora, Delly è uno pseudonimo collettivo adottato dai fratelli Jean-Marie e Frédéric Petitjean de La Rossière. I romanzi di Delly furono estremamente popolari tra gli anni 10 e gli anni 50 del 1900. In realtà mia cugina aveva l'edizione Salani di questi romanzi di tipo gli anni 60, ma penso che abbiano continuato a venire pubblicati almeno fino agli anni 70 qui in Italia. In Francia naturalmente sono molto più popolari, ma intorno agli anni 50, 60, 70 hanno avuto grande popolarità comunque anche in Italia. Popolarità che col passare del tempo è andata scemando però. Infatti non credo siano più stati ripubblicati, al contrario dei romanzi di Liala e di Barbara Catran, che invece continuano ad essere pubblicati sia in cartaceo che in e-book e quindi sono facilmente reperibili. Delly ormai la potete trovare solo nell'usato. Se invece sapete leggere in francese, le edizioni francesi si trovano facilmente anche in e-book e continuano ad essere ristampati. Allora, di cosa parlano i romanzi di Delly? Stiamo sempre parlando di romanzi rosa, ok? Romanzi vintage rosa, quindi che hanno uno stile di scrittura e seguono una moda che è leggermente diversa dai romanzi rosa di adesso, ok? O anche semplicemente dai romanzi rosa d'oro, che secondo me sono quelli che vanno dagli anni 80 agli anni 90, che sono i miei preferiti. Qui abbiamo un gusto molto, che potrei definire, borghese, cioè il ruolo che una persona ha all'interno della società, le sue aspirazioni, il suo spirito morale, ok? Hanno molto peso nell'opera di Delly, cioè la struttura sociale e la moralità di inizio secolo si riflettono molto in questi romanzi. I cattivi sono proprio cattivi e spesso anche stupidi cattivi, ok? Come nei film di James Bond però, quello, ok? E le protagoniste sono sempre molto pure, molto buone, molto caste, molto sfortunate nella vita, però riescono a superare l'antagonismo dei nemici e la sfortuna, principalmente grazie alla loro alta moralità e alla loro fede. Perché bisogna dire che comunque questi sono romanzi dove la fede ha molta importanza, cioè il fatto che la protagonista creda in Dio e sia, diciamo, guidata dai precetti morali della cristianità, giriamola così, la sua purezza d'animo, cioè tutto questo ha molta importanza ai fini della trama e lei alla fine, al 90%, redime il protagonista maschile, che invece è un uomo tutto d'un pezzo, un po' freddo, un po' disincantato, un po' cinico, non è lui il cattivo della situazione, però è un uomo che, diciamo, in un certo senso ha perso la via, diciamola così, e la nostra eroina lo ricondurrà sulla retta via, sulla retta moralità da seguire ed egli tornerà a credere in qualcosa di più che non siano i beni materiali. Questo, in poche parole, è la trama di quasi tutti i romanzi di Dali. Dopo, naturalmente, stiamo sempre parlando di romanzi rosa, quindi c'è anche l'amore, l'amore tra i due protagonisti, oltre che l'amore per Dio, naturalmente, e naturalmente ci sono tutti degli intrecci, dei misunderstanding, ci sono anche trame più esotiche, per esempio mi sembra che ce ne sia uno ambientato in Arabia o anche qualcuno ambientato sulle Ande, eccetera, quindi ci sono anche, magari ci sono dei ladri gentiluomini, insomma, ci sono delle variazioni sul tema, comunque abbiamo i classici temi dei romanzi rosa, però tutto, insomma, diciamo, con uno stile molto diverso da quello moderno. Forse leggermente più vicino, adesso non voglio fare dei paragoni, perché non posso paragonarlo al libro, per esempio, Pamela di Richardson, però il gusto e la morale inglese-francese del 1900 o di fine del 1800 è sempre quella, quindi si sente, seppur questi sono romanzi molto più leggibili, più godibili, più semplici, proprio fatti per un pubblico meno colto, quindi comunque sono piacevoli, ecco. Certo, bisogna che vi piacciono un certo tipo di romanzi, secondo me, se vi piace Georgette Eyre vi potrebbero piacere benissimo anche questi, anche se sono leggermente più improntati appunto su questa importanza della fede che non era così palese in Georgette Eyre, però il gusto morale, la visione della società invece è abbastanza simile a quello sì. Quindi sappiate che esistono anche questi romanzi. Allora, mia cugina ne aveva qualcuno che si intitolava... è mio falnerra, poi c'è schiava o regina, l'accusatrice, il tesoro nascosto per amore di Orida, Aleia figlia dell'India, la ragazza dagli occhi verdi, il re delle ande, il segreto di Lusette, vi sto dicendo qualche titolo, il violino zigano, il segreto della Saracena, quindi potete vedere anche che c'è, ci sono anche delle trame più esotiche, l'erede dei duchi di Salz, l'Enster alla stalla d'Oriente, l'oratorio delle rose, la gatta bianca, la colomba del castello, verrà quel giorno, l'appassionata d'Elli, la fine di una, Valkyria, eccetera, eccetera, eccetera. I titoli sarebbero molti, se volete provarli, nell'usato si trovano abbastanza facilmente, questo ve lo posso dire con sicurezza. Poi, un altro libro che ho trovato appunto sempre tra i libri usati di mia cugina, era Il padrone delle ferriere, un romanzo di Georges Onet, pubblicato nel 1882, un autore parigino abbastanza famoso, e comunque scriveva romanzi di appendici. Allora, io anche qui non voglio far paragoni, però, più o meno, siamo a un livello più basso che non Madame Bovary, però anche lì l'impronta borghese e l'impronta quindi sociale e morale francese di quell'epoca, da fine Ottocento, primi del Novecento, è sempre quella di Madame Bovary e di romanzi simili. Quindi, anche qui bisogna che vi piaccia un certo tipo di romanzo, ok? Ed è questo romanzo abbastanza famoso, probabilmente il più famoso di Georges Onet, che andava molto qui negli anni 60 e 70 in Italia, e che io, purtroppo, mentre conoscevo molti romanzi d'appendice o folletone francesi, non lo conoscevo. Questa è una mia grave mancanza, che recupererò sicuramente, però anche questo lo trovate nell'usato. È stato ristampato, secondo me, fino agli anni 80 anche in Italia. In francese viene ristampato tuttora, è un classico. In inglese non lo so, però se lo cercate sicuramente lo potrete trovare senza alcun problema. No, di cosa parla? Abbiamo una marchesa ricca aristocratica, che se non mi ricordo male si chiama Claire, innamorata e promessa sposa di un cugino, Gaston. Lei, diciamo, che non è molto simpatica come personaggio, specialmente all'inizio, e neanche il suo promesso sposo. Fatto sta che questa qua viene lasciata dal suo promesso sposo che, bisognoso di fondi, la molla per un ereditiera borghese, ok? Claire ci rimane malissimo, anche perché lei stessa non è che navighi nell'oro, ecco, diciamo così. Quindi, quando viene abbandonata dal fidanzato, che preferisce i soldi all'amore, anche lei, un po' per tornaconto economico, un po' per ripicca, si sposa quasi subito, per fargli vedere che non è che abbia provato più di tanto dolore per il fatto che lui l'ha lasciata, e si sposa anche lei con un ricco borghese industriale, Philippe, che però lei disprezza proprio per il fatto che lui non è di nobili origini. Naturalmente capirete che lui capisce che lei non lo ama, anche perché lei non è molto subdora in questo, non è che fa finta di essere innamorata di lui. Quindi diciamo che il matrimonio parte con dei presupposti non molto belli. e infatti Philippe ad un certo punto dice quasi subito che salverà le apparenze davanti al mondo, ma visto che lui sa che lei lo disprezza, lui stesso la disprezza per il fatto che lei lo disprezza, e anche se davanti al mondo faranno finta di essere una coppia, nella realtà è come se non fossero sposati. Però con il passare del tempo Claire si rende conto della statura morale del marito che ha molti pregi, se lo confronta soprattutto con Gaston che era più egoista, e alla fine quindi se ne innamora soprattutto, e quando è che se ne rende conto? Perché lei ci vuole un po' di tempo perché ci arrivi, se ne rende conto quando Gaston tenta di sedurla e di farne la sua amante, perché non è che lui ami l'ereditiera che ha sposato, però lei in quel momento si rende conto che non lo vuole più e che anzi vorrebbe che suo marito l'amasse. E quindi potete immaginarmi che il libro finisce bene per la coppia protagonista. Allora, da questo romanzo è stato tratto anche un film, se non ricordo mai, sempre negli anni 60, perché è negli anni 60 e 70 che ha conosciuto una gran popolarità, che si intitolava appunto Il padrone delle feriere, anche il film. Non so se è reperibile in italiano, può darsi di sì, ed è praticamente una trasposizione abbastanza fedele, sì. È disponibile anche in italiano, secondo me è passato in televisione qualche volta, ma io non l'ho mai visto, perché comunque stiamo parlando di un film vintage. E è praticamente una trasposizione ancora più o meno drammatizzata del romanzo, però se vi capita di trovarlo, magari anch'io vedrò se riesco a reperire qualcosa in modo che lo possiate vedere, se è disponibile da qualche parte, comunque ve lo metto nell'infobox. Se devo pensare a una serie di libri o comunque a un'autrice con cui vedo dei punti in comune con Onet o soprattutto con Dalli, oggi penso a Jeannette Hawke, o Hawke, non so come si pronuncia, comunque un'autrice americana di romanzi rosa, ambientati soprattutto nel West di fine o metà 800, dove la fede è al centro della trama, però è un tipo di fede diverso da quello dei romanzi di Dalli. Infatti, mentre in Dalli la fede è qualcosa che innalza la moralità e migliora il personaggio femminile, ed è qualcosa che è una forza di redenzione che il personaggio femminile dopo utilizzerà sul personaggio maschile, cinico, che ha perso appunto la fede, nei libri di Jeannette Hawke invece la fede è una forza, è una forza motrice, cioè è la forza che ti permette di andare avanti contro mille avversità. I suoi personaggi di solito non hanno degli antagonisti umani, ma hanno come antagonista la forza della natura, la forza del destino. Di solito nelle trame abbiamo donne che rimangono vedove, perdono figli, perdono i raccolti, perdono la mandria, gli capita qualsiasi cosa, ma grazie alla fede continuano ad andare avanti e a ricominciare. Quindi diciamo che è una visione leggermente diversa della fede, ma d'altronde mentre con Dalli siamo in Francia, e con Jeannette Hawke siamo in America, quindi anche una visione diversa della cristiantà o comunque della religione, e stiamo parlando di coloni americani, quindi non di borghesi ricchi o magari nobili europei, quindi siamo dimensioni totalmente diverse, classi sociali totalmente diverse, però stiamo comunque parlando cos'è che hanno in comune questi tipi di romanzi, che sono romanzi rosa perché comunque c'è una storia d'amore, ma sono romanzi dove la fede ha molto molta importanza. Quando si parla di romance esiste una nicchia, soprattutto in America, nelle autrici americane, una nicchia proprio dove si parla di romanzi rosa cristiani, quindi là è un genere che va molto. Io non so da noi quali autrici di quella nicchia siano mai state tradotte e pubblicate in italiano. Secondo me pochissime e non ne ho trovate, se ne troverò comunque ve lo metterò nell'info box o aggiungerò qualcosa in calce a questo video. Ma proprio quelle specifiche specifiche di quella nicchia secondo me in italiano non sono mai state pubblicate. La stessa Janet Hawke, nonostante sia veramente molto molto famosa e abbia scritto sia romanzi ambientati in America che in Canada, non è mai stata pubblicata in italiano. Però di suo, tratti dai suoi romanzi rosa che veramente in America e in Canada sono famosissimi, sono arrivati in italiano con i film tratti dai suoi libri. Tutta una serie di film che sono passati anche da noi in televisione e sono recuperabili sicuramente su YouTube almeno. Non solo, se non sbaglio, anche la stessa serie Where Calls the Art che è disponibile su Netflix dovrebbe essere tratta anche quella da una serie di libri di Janet Hawke. Ma io in particolare vi consiglio la serie Love Come Softly che è anche il titolo del primo film della serie che in italiano è diventato L'amore arriva dolcemente. Il protagonista di L'amore arriva dolcemente è Catherine Ayl che forse conoscerete perché è un'attrice famosa per Grey's Anatomy e anche Roswell la serie televisiva ed è veramente un film carino. Parla di una vedova che appunto nella metà dell'Ottocento perde il marito quando sono appena arrivati all'Ovest e per bisogno perché non è in grado di mantenersi da sola eccetera deve sposare un altro vedovo che ha una bambina piccola quindi anche lui ha bisogno di una donna. Quindi di due diciamo che all'inizio si sposano per bisogno ma poi passando il tempo assieme eccetera lei si affezionerà alla figlia di lui e poi si affezionerà anche a lui e comunque lui è molto spinto dalla fede e insegnerà anche a lei a riavere la sua fede e i due si innamoreranno molto carino come film se non l'avete mai visto ve lo consiglio e vi lascerò il link nell'info box molto piacevole anche la serie Where Course the Art che è disponibile su Netflix e quindi se sapete leggere in inglese magari se vi va di dare una possibilità anche ai libri di Jeannette Hawk sappiate che sono disponibili in inglese senza alcun problema anche in ebook qui fermo il video perché altrimenti come al solito diventano troppo lunghi vi ricordo che comunque se vorrete un video comunque un post dedicato anche ai romanzi di Barbara Cartland o Liala fatemelo sapere ve lo farò e comunque sicuramente tornerò con altri video dedicati ad altri libri vintage perché mia cugina ha ancora un sacco di libri sarà una roba lunga questa ma li salveremo a uno a uno e troveremo loro delle nuove case perché io purtroppo ho potuto salvarne pochi perché non ho spazio per poterli conservare a casa mia né mia cugina né ha nella nuova casa quindi abbiamo dovuto fare delle scelte molto difficili e io ho potuto salvare solo qualche volume della Woodvice e qualcuno di Barbara Cartland ma troveremo una a casa tutti state tranquilli vi terrò aggiornati in proposito e vi saluto qui e vi auguro buona lettura se il video vi è piaciuto cliccate mi piace qui sotto all'info box e iscrivetevi al mio canale per non perdere i miei prossimi video e conoscere che fine faranno i libri di mia cugina nelle prossime puntate va bene ciao